si è andato allora non c'è nessuno pensavo che era tuo figlio giro prima invece era il suo compagno in squadra ok bene 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 ma non troppo vabbè che se lo strappo prima mi ero un po allungato sono andato un paio di volte due ucraini sono lì sono nella corsa anche russi no giusto giusto per sapere rischierebbero leggermente esatto magari no anche perché poi in realtà poi magari si conoscono pure e non male già corso insieme prima è lì è là è là a noi in grittura c'è solo la squadra femminile allievi e così come mi ricordo comprare non ho preso mai prima meno di più esatto però gli hanno dovuto preparare le bici e tutto per l'anno qui giovanni guarda la posta laura ecco la laura giovanni l'ala è qui se la vuoi ecco e qui siamo posti ci mettiamo adesso che comincia a aumentare un po le persone qua mascheriamoci non mi scopri esatto e riprescarsi stava bene eccoci eccoci qua 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 è nato un monistro cioè ci rintroppi da 20% alle persone sono in un'altra eccoci qua eccoci qua non sono avuta tutto 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 è tutto davvero tutto tutto è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto è oltretto è tutto ma è stato quando Beh, però, magari, venga, venga, non c'è a passare la macchina. Ultimo giro. Finito. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Però c'è, non c'è. Beh, perché vanno per le gare di nuoto. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Comunque hanno la fattata, vede? Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. 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 Non c'è, non c'è.